Sì, io e l'assessore Amurgia stiamo ricevendo in questi giorni molte sollecitazioni positive invece in una tragedia, in un momento molto difficile, che è quella della disponibilità di tanti giovani e meno giovani che vogliono mettersi a disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà, a liberare le cantine, gli appartamenti allagati, quindi troveranno e troverete sul sito del Comune un link dove dare la disponibilità per aiutare le famiglie in difficoltà, aiutarle per liberare cantine, per pulire i vani occupati dall'acqua e aiutare le persone più fragili, che è la cosa più importante. Chiameremo all'aiuto i maggiorenni in particolare, ma la sollecitazione più grossa è stata dal Forum Giovani. Assessore Amurgia, Pesaro è stato una città solidale e in queste occasioni lo dimostra anche di più. Sì, l'emergenza ha dentro di sé anche il lato umano delle persone, oltre la tragedia che vediamo non solo qui nel nostro territorio, in Emilia Romagna specialmente, i giovani diventano protagonisti di un vero atto di solidarietà. Sono stati i primi a contattarci per chiedere come potessero essere d'aiuto, di supporto verso le persone più anziane, per esempio che hanno le proprie cantine, i propri garage occupati dal fango o ancora dall'acqua. Questo ci fa onore, ci ricorda che le nuove generazioni sono sempre pronte a mettersi a disposizione degli altri, basta riuscire a contattarle, cosa che insieme al Presidente del Consiglio Comunale e anche sulla spinta del Forum Giovani siamo riusciti a concretizzare. Spero che a questa catena umana, e che l'emergenza non serva ancora a prolungarla, però che questa catena umana possa essere un esempio virtuoso anche per coinvolgere altri cittadini.